Il mito nel mito. A Brindisi dal 15 marzo la mostra dedicata alla danza classica russa curata dal noto ballerino e coreografo brindisino Tony Candeloro e la storica del costume Federica Tornese. I celeberimi balletti russi rivivranno nelle sale espositive di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi allestite con opere appartenenti alla collezione dello stesso Candeloro per celebrare i cento anni dalla creazione delle premi di Dunfaune di Vazlav Nijinsky attraverso i miti di Diaghilev avvenuto il 29 maggio 1913. A presentare e inaugurare la mostra l'ospite d'eccezione Carla Fracci indimenticata ballerina italiana di fama internazionale che in conferenza stampa nella sala università di Palazzo Nervegna con le istituzioni, curatori ed altri esponenti del settore ha incantato i presenti. Opere d'arte, scenografie, costumi e programmi artistici per una mostra ritenuta tra le più prestigiose raccolte sulla danza ospitate da grandi musei internazionali. Solo una parte della stessa esposizione che a Brindisi sarà completa ha debuttato in Italia nel museo presente nel Teatro La Scala di Milano con il picco di 25.000 visitatori. La mostra, allestita nelle sale espositive al primo piano di Palazzo Granafè in Ervegna, sarà visitabile fino al 15 maggio, dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 21 con ultimo ingresso alle ore 20.30.